Torna lo stato di agitazione fra le imprese dell'indotto Ilva di Taranto dopo la notizia della bocciatura dell'emendamento che avrebbe dovuto consentire un più agevole accesso delle stesse al fondo di garanzia. L'ho annunciato Confindustria Taranto, precisando che le aziende appaltatrici hanno di fatto visto tramontare la possibilità di ottenere un po' di ossigeno per le loro casse già asfittiche, eventualità che sarebbe stata resa possibile se il provvedimento presentato dall'onorevole Pelillo, capogruppo del PD alla Commissione Finanze della Camera e da altri deputati, fra i quali l'onorevole Ludovico Vico, non fosse stato respinto. Confindustria aveva caldeggiato la modifica delle modalità di accesso al fondo, proprio per consentire alle imprese ancora creditrici di 150 milioni di euro maturati durante la gestione commissariale Ilva di poter contare su risorse utili a proseguire nelle loro attività e in molti casi anche ad evitare il fallimento. Le aziende ora, alla luce delle recenti vicende, potrebbero tornare sul piede di guerra, assumendo soluzioni anche drastiche al loro interno, come la messa in libertà del personale e il blocco delle forniture all'Ilva.